Il fenomeno della contraffazione e del traffico illecito delle merci riguarda anche il vasto mercato della bigiotteria, non solo quella dei venditori ambulanti, ma anche quella presente nei negozi e nelle vetrine dei luoghi di villeggiatura. In un'operazione delle fiamme gialle nei negozi della Riviera, mirata a contrastare questo tipo di reato, i finanzieri si sono accorti che venivano venduti oggetti di bigiotteria e accessori di abbigliamento, molti dei quali senza provenienza certa e dunque potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. La Guardia di Finanza di Pesaro ha sequestrato 40.000 pezzi di merce contraffatta per un valore di oltre 22.000 euro, tra cui anelli, bracciali e cover per smartphone. La merce era priva dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa a tutela dei consumatori. La maggior parte della merce è stata sequestrata in un negozio di Gabicemare, in provincia di Pesaro, dove sono stati rinvenuti oltre 35.000 oggetti, tra bigiotteria e di altri oggetti esposti per la vendita, privi delle informazioni essenziali su natura, qualità ed origine dei prodotti, elementi utili a determinare anche la presenza di materiali o sostanze dannose e nocive per l'uomo. Contestualmente, al sequestro della mercanzia, la Guardia di Finanza ha contestato ai detentori degli oggetti violazioni amministrative che prevenono sanzioni pecuniarie anche fino a 25.800 euro. L'operazione rientra tra le attività, a contrasto della commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per la salute del consumatore per tutelare le imprese che operano sul mercato rispettando le normative e la legge necessaria. Grazie a tutti.